Va bene, in bocca al lupo, vedremo come va a finire. A due cose devo parlare, due cose che sono impressionanti. La prima è la questione della sanità. Ho scritto un pezzo sulla mia pagina Facebook che mi invito a seguire, dicendo che, come tutti sanno, siamo senza medici nei tre ospedali. Ci dovrebbero essere 51 medici del pronto soccorso, ce ne sono 10-12. Ed è una cosa incredibile perché la filiera e comunque la decisione che dicono l'ha preso la melone, ma secondo me è partita da prima, è quella di portare tutta la sanità al privato. Avete visto quel servizio l'altro ieri di quel medico a Cortina d'Ampezzo che viene e ti dice, ma io qua guadagno 150 mila euro l'anno facendo il gettonista e faccio quello che voglio. Sì, magari lavoro di più, ma poi un giorno non lavoro. Faccio quello che voglio, mentre invece i poveri impiegati dell'ASP devono fare turni massacranti con le responsabilità e non sanno come se la possono cavare. L'altra cosa grave, ed ecco perché ho scritto appello al sindaco, è che per esempio uscendo dalla facoltà di medicina, tutti questi laureandi dovrebbero andare in giro a fare un po' di tirocinio nelle strutture ospedaliere. Bene, l'università di Catania a quanto pare non manda nessuno a Ragusa, eppure sappiamo che noi paghiamo l'università intera per quelle facoltà di cui c'è stata anche un po' di critica, ma è possibile che l'amministrazione non può chiamare Catania a dire ma mannaccirlo a noi qualche specializzando in modo che aumentiamo l'organico in qualche modo nel pronto soccorso a Ragusa o a Vittoria e poi si dovrebbero interessare anche gli altri politici. Questo è un fatto molto grave. Ma l'altro fatto gravissimo riguarda le Camere di Commercio. sapete che venerdì scorso mentre loro si organizzavano per vedere quanti rappresentanti ha una o l'altra categoria per poi andare a votare per fare il nuovo Consiglio di Amministrazione la Giunta Camerale e il Consiglio Camerale della Super Camera di Commercio sapete cosa hanno fatto? Il commissario Belcuore che qualcuno ha definito l'ex presidente del Carnevale di Agileale perché forse era una cosa che faceva ridere ha deciso di cancellare le elezioni cioè ha annullato le elezioni sì c'era un ricorso una domanda delle cooperative di Sicindustria che chiedevano di sapere ma cancellare completamente le elezioni cosa vuol dire? che saremo ancora sotto un commissario e saremo ancora sotto un commissario per esempio con l'aeroporto di Comiso e pare una stupidaggine ma è così guardate che tutto questo si gioca sull'aeroporto di Catania e all'aeroporto di Comiso perché la Camera di Commercio del sud-est è la proprietaria della SAC e della SOACO perché ha 5 quote su 8 e siccome la SAC è una macchina che produce soldi e dà impieghi e dà stipendi e ha amministratori e tutte queste cose qua a nessuno piace che ci sia perché potrebbe esserci una nuova una nuova forza alla Camera di Commercio e Torrisi e gli amici potrebbero essere cacciati cacciati potrebbero essere cambiati no e Torrisi che continua a dire queste cose ora facciamo la torta per il nuovo volo da Comiso per Barcellona sono d'accordo è bello due voli alla settimana per Barcellona durante l'estate non c'è dubbio è bello ma è così che dobbiamo fare crescere quest'aeroporto a Catania 400 voli al giorno i cessi occupati non si capisce niente che c'è una confusione pazzesca l'area bruciata è ancora bruciata e poi noi abbiamo due voli in più su Comiso ma vi rendete conto e questo viene mantenuto in vita dalla Camera di Commercio che decide di bloccare le elezioni perché poi chi avrà il controllo della Camera di Commercio potrebbe cambiare anche la situazione dell'aeroporto ma non è vergognoso questo? Che ne pensate? Secondo me è una vergogna senza paragoni senza paragoni eppure dobbiamo sopportare anche questo per fortuna ci sono delle cose simpatiche come per esempio questa manifestazione che abbiamo pubblicizzato molto che riguarda la prima mostra mercato del tartufo il tartufo è qualcosa di molto pregiato che va bene al nord e noi ce l'abbiamo e quindi bisogna valorizzarlo vediamo il nostro servizio speciale grazie a tutti